Senta, volevo chiedere per un'amica, per un'amica, che ha dei problemini di ritenzione idrica, così, buccia d'arancia, cellulite, per un'amica, per un'amica, ci sono dei rimedi naturali? Ecco, bene, perché questo le interessa, la mia amica le interessa molto. Ah, e anche un'altra cosa, ultimamente ha dei problemi di digestione, dice che sente gonfia, problemi di stinzi, stichisti, stipsi, amore brava, stipsi, cosa c'è? Ti stai annoiando, allora sai cosa fai amore? Ti prendi la tua telecamerina, prendi la porticina, qui sopra c'è Palazzo della Ragione, uno dei siti UrbSpit, ti fai fare un bel giretino e ci vediamo dopo, perché ho da fare, perché devo chiedere delle cose per una mia amica, no, per una mia amica cosa c'entro io? Dai, allora dopo. L'erboristeria naturalmente è proprio nel centro storico di Padova e da più di 30 anni si occupa del nostro benessere psicofisico con rimedi naturali, prodotti biologici e come vedrete un sacco di cose meravigliose. E sono qui con la dottoressa erborista Eva. In questo lavoro cosa conta davvero? In questo lavoro conta assolutamente la professionalità, la passione, perché anche quella, la continua ricerca in nuovi prodotti che siano sempre di più all'avanguardia nel settore curativo soprattutto per specifiche problematiche. L'esperienza sicuramente fa la base perché hai un ritorno dai clienti, quindi di conseguenza capisci bene anche se il prodotto può funzionare, se funziona bene, se sono soddisfatti i clienti e anche una soddisfazione tua personale. Sicuramente vederli continuamente ritornare è una grande soddisfazione. anche perché magari vengono e mi dicono ma sono contento, poi se non trovo quel prodotto, mi fido di lei, di quello che mi dice, quindi io comunque a me riempi di gioia proprio il cuore perché è una cosa che ho dentro e quindi mi sto portando avanti con passione. Ma da naturalmente troviamo anche un sacco di cose per il benessere della nostra casa che potrebbe far sorridere, però la nostra casa la dobbiamo vivere al meglio, dobbiamo respirare energia buona. È vero Gioia? Io vedo un sacco di cose e sono curiosissima perché mi piacciono tanto. Vedo tutta una serie di profumatori, si dice aromaterapia, è giusto? Sì, possiamo definirla aromaterapia. Vogliamo rendere gradevole anche le nostre case, vogliamo rendere gradevole il nostro relax e sento che richiamino anche il territorio. Anche un sacco di oggetti stupendi che vedo, particolari anche questi. Questi ad esempio provengono dal Belgio, però c'è una ricerca continua di oggetti, sia oggetti, ma parlavamo di candele, sia nel territorio che nel mondo. Il mondo, esatto, dove riusciamo andiamo e cerchiamo e tocchiamo con mano. Un'ampia scelta di infusi, di tisane, di tè, più di 150 tipi di piante sfuse. Questo è un periodo in cui ne stiamo preparando moltissime, sia su richiesta che a nostro gusto. Fiore all'occhiello dell'erboristeria, naturalmente so che è anche Green Maison, e che se non sbaglio è qui vicino? Esatto Stefania, è proprio qui, a 20 metri. E allora vado a vederla? Green Maison, uno store totalmente dedicato alla cosmesi naturale, biologica, organica. Vero Giulia? Certo Stefania, qui abbiamo una selezione di prodotti per viso, corpo e capelli, dermo affini, completamente naturali e selezionati da me e provenienti un po' da tutto il mondo, Italia, Francia e anche Corea. Qui posso trovare oltre alla bellezza, insomma per il viso, la cura, eccetera, anche qualcosa come trucco? Assolutamente sì, make-up, skin care, viso, corpo, capelli. Noi gestiamo la clientela con una consulenza personalizzata, cercando di trovare il prodotto più adatto alle esigenze che ci vengono richieste. Senti Giulia, ma c'è qualcosa per la cura delle pelli mature? Assolutamente sì, abbiamo diverse linee, diversi prodotti con principi attivi finalizzati e mirati per il trattamento anti-age, ma abbiamo anche tantissimi prodotti per le pelli giovani, perché come sappiamo la prevenzione è in assoluto la cosa più importante. Allora ti chiedo di farmi vedere qualcosa? Andiamo! E allora come si fa a non innamorarsi dell'erboresteria naturalmente? Impossibile! Ma non ci chiedo di farmi vedere qualcosa? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti